Dai, ti faccio assaggiare una specialità. Te la faccio mica pagare, eh? La pasta. Pomodoretta crudo appena scottato. Filo d'olio. Potaglietto. E poi, a chiudere, mai col coltello, sempre con le mani, basilico. E poi, a chiudere, non? È un po' di più. 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 Buona. Buona, sì. Puoi aprire un ristorante? I nonni miei, pocivano i cuochi, in Abruzzo, a Lanciano. la palomba il ristorante del fantassio dove abruzzo abruzzo l'italia stivale qua roma qui abruzzo ma perché è venuto qua per studiare poi ho trovato lavoro perché se non c'è lavoro se non c'è i soldi tasca tutti i giorni so cazzo mi vede a ridere che lo dico a te che la storia la conosci bene ma non è solo il morto di fame lo straniero che arriva qua se non c'è il culo palato se non c'è la famiglia che ti aiuta questo straniero in patria